Musica In aula manca la maggioranza, non si discute del problema delle esondazioni, manca il numero legale. Vi siete presentati in Consiglio Comunale con dei volantini, con delle accuse e delle critiche anche molto dure. I volantini sono questi, vergogna, perché vergogna rappresenta quello che i cittadini in questo momento vorrebbero esprimere e non possono farlo, perché una classe dirigente, un sindaco, un'amministrazione che conta, invece di fuggire, scappare con la coda tra le gambe, si presenta in aula per affrontare i problemi. Le esondazioni stanno creando enormi problemi, soprattutto ai contadini che stanno perdendo i raccolti. Il Consiglio Comunale oggi era un appuntamento importante per portare un contributo, maggioranza e opposizione per la risoluzione di questi problemi. Canforo ha dimostrato di essere una persona inadeguata per il ruolo che svolge e questa amministrazione ha dimostrato tutta la sua pochezza. Ma noi non ci fermeremo più, non ci fermeremo e andremo avanti, perché le persone hanno bisogno di avere giustizia e l'amministrazione si deve assumere le sue responsabilità. Cosa pensano? Che non presentarsi in consiglio possono scappare. Continueremo ancora. Cosa pensano? Che non presentarsi in consiglio può scappare.